e ci sono sentiti cosa per sentire infatti ma non non è che via il telefono non hai fatto ma se non sarebbe il papà di ricca la fatta qualche ragazzo siamo pronti purtroppo non c'è stato un momento di terrore un po' di tipo state per morire ma seria vita abbiamo due titoli in realtà è zero, io l'ho usato, l'ho usato no, Grievous vieni qua, dove sei? però sticcuro se prometti di usare meglio la mani d'età e' un'altra katana e ora non c'erai e ora non c'erai e' ancora più da... la spasta e' secondo me è meglio che qualcuno ce l'haga io non avevo volato un droide, è bellissimo ho visto un droide da qua danisco così la madre patria ah, si disconnetta forse sta cosa si disconnetta l'ho sentito a futura l'ho sentito a futura mi piace cavoli no, ho sentito una voccini sottofondo ma non capivo c'era un po' di caso e' un po' di caso non c'è nessuno che fosse il risultato l'ho sentito eh, ecco la dove è, ecco la dove è il risultato no no abbiamo riviste dei tempi l'opportunità per il cassino che risolverà ancora abbiamo comunque era l'ultimo come anche conti 5 5 5 la prima che non c'è la parola e poi c'è la seconda con le quali della terza che non mi voglio poi ce l'arrivò la casa patrón oddio che cosa prima domenica per la pubblica e mi avete bloccato da questo lato l'acqua è calda l'acqua è caldo ciao ma migliorano tutti ma dai vuol dire che sei clauditante con un verbo maia nonostante ma nonostante un po' di un bel nonostante anche con quello che ha fatto un proverso roba ragazzo la parola si sono arrivato almeno sono armi ma chi se ne frega e no, c'è qua una bella bomboletta l'ultima maxi b maxi il quattro si può per il suo punto maxi fumo il tuo punto la vista dove siete ragazzo che è molto e qua siamo stiamo morendo chi arriva ragazzi 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 e raffetto si vabbè ma dai mi ha fatto strike Matteo per favore ma dai questo si chiama sfiga però questo si chiama sfiga però raga posso dire che si chiama sfiga ma a combinazione c'ha beccato tutti e quattro alimenti c'ha lanciata la macchina ma che sfiga ma che sfiga un kit prendetelo voi ehm e come lo scala che dico se uno userà dentro no no è un ignoto che dico sta fermo che dico sta fermo per gli anni no guarda c'è il decreto ecco quello prendilo pure te io pido di nuovo lo fa 12 e guarda che la prima volta prima faccio faccio un po' di tiro di precisione che faccio fuori un po' di zombetti qua poi mamma mia che casino però quel quel tacco ci vuole quel tanno che sfiga meglio meglio diciamo all'inizio piuttosto che perdere la lapina eh sì in un certo senso ok rispetto l'altra volta che oh direi che ho pulito abbastanza oh ecco aspetta adesso andiamo subito sul tettuccio della casa e che corriamo tra le case visto che arriva l'ora la guerra del vuoto via si la guerra del vuoto vai ok no c'è via via comunque c'è la testa del clone sotto il casco è bellissimo no è bellissimo perchè questo conferma che quando metto in comando i casi vuol dire che rimane la testa dentro invece i conti che ho chito gli euro poi ho dato nella parte è vero è finta porca puttana se il ciclo che aiuto nooo è circondato un altro io aiuto 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 è una cosa sicuro cioè c'è una sicura molto sopra io stavo sopra ma c'è qualcosa qua non c'è niente di utile aspettate è tutto tutto le cose che vuole emozionare delta tipo le le mazza da baseball io volevo tenere ma io volevo un bombolone invece non c'è tutto non c'è tutto non c'è questo po' così grosso ragazzi questo po' così grosso non è piaciuto eh non è che era tipo se abbiamo incontrato le vecchie amici un caldo il punto di vista un po' così grosso tutto il caricatore amo che c'è una porta però mi ha disegno io salvo sono una witch non è per dar brutte notizie ma c'è no davvero che che ho tutto il vetro io sto proprio un pratico non è la witch ragazzi io sono sobra voglio sfiderla lo so però la sala vista lo sfista beh lo sto puntando io un po' aspetta che arrivo c'è un po' inacidato ha trovato però io non ci sono non è una witch un istintore è un istintore ecco la che c'è un bel davanti a tempo non c'è no è una witch raga guardate qua 2.000 euro 4.000 euro per terra ah vero un idrante no no non è un idrante no dico a sinistra aggiriamolo dai poca volontà venga la luce spegnete luce fermi fermi ecco bravo appunto guardiamoci intorno magari ci possiamo diciamo aiutare l'avevo vista prima qui tenta guarda 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 solo un attimo qua tutto sotto esatto ho visto che si avvicina no no ma senti cos'è senti quelli gli erotolato la tannica tutto il culo un attimo sopra poi si è diseduto doveva prima andiamo aspettate volevo verificare se nelle casette lì dietro che qualcosa di inizio aspettate gollum 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 vabbè ok andiamoci dai pronti aspetta chi ha la presenza della bombola perchè non vedo io 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 non vedo niente ok la scelta peggiore non la vedo via eccola non la vedo non la vedo vabbè ci sta circondando ci sta circondando è qua ma no qui è una schiavata un uragan un uragan un uragan un uragan un uragan sii ma adesso lo smesso adesso lo smesso sai quanto ci è andato male che abbiamo attaccato mentre arrivava l'orda no no ma è quello che ti dico c'era l'orda mentre si è intensificata anche la fioggia no è lo bellissimo che è scattato proprio l'espl... ehm ehm qua c'era la tannica una volta tanto sta gente ha pure l'acqua in casa ma che è? ehm è tipo la classica casa venezia questa pizzeria di tutto che vuole un uragan ciao a me vini il sud di spazi da me tra mia lì i falsa cazzo dalla mia vita non è la capola ma siamo vicini alla ma ma se non potrebbe essere meglio parlare da capore e quindi faceva a cacampo amaro dorato ma da e c'era la cittura per farci attaccare per l'ultimo a tra l'altro ragazzi non ve l'ho detto martedì ma noi siamo andati a vedere free guy ah vero si ah io devo ancora vedere raga però è bello molto bello molto carino vabbè l'attore è fantastico sul finale ci sono due citazioni che mamma che figata ma che tema death pool o tema poche altra cosa ho uno tema star wars e uno tema no vabbè non aspettare boomer ok 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 griffus tempo indietro vieni ecco le rompe. e lo so è solo che purtroppo non c'è un niente per la proposta sono loro cattivi il mondo non c'è ancora scritto ma c'è ancora più per fortuna l'angolo la testa e adesso però è che mi ha fatto andare a un io c'ho un punto a 1 ok puro un po' più infatti tutti con poca vita eccetto me oh i giochi c'è un giochi corso oh i giochi c'è un giochi corso ma è nell'ambulanza non c'è qualcosa ma gli zombie non volano via c'è niente veramente niente niente ho più gli ambulanti è tutto colpo degli zombie paramedici è tutto colpo degli zombie paramedici ma insomma non stai aiutando un amico no tu mi stai affettando è diverso sono due cose distinte e preparate … no c'è niente ti amo confetti mi sono solito non c'è niente Andiamo, dov'è R, dov'è R? Ok, Grigus Guarda, guarda questo bel trio di malati Dai, andate, andate No, veramente Tutti in zocchi Delta, you, backstab, now, flex Now, ignoto, you, backstab, now Ma noi ci siamo messi molto bene, eh, tecnicai Siamo qua serioli No Ragazzi, il tank Cos'era, no? No, no, no Il tank Il tank Vabbè Niente No, no, delta, delta, delta Finita Oh, delta, che cacchio fai? Oh, ok, no È morto, è vero, ammazzato Come che si britti, grazie Un uomo con defibrillatore vada a defibrillare Sì, eh, scusa, l'altro Grigus, ho visto Che è andata bene con il nuovo sotto la moto Stop shocking me Però andiamo veramente Ma qui mori fa molto più Siamo quasi arrivati comunque, ragazzi Ah, eh, eh Ah, eccola Ragazzi Ragazzi Qui davanti, ragazzi, dobbiamo arrivare lì Eh, lo so, lo so Lo so, lo so Siamo arrivati al parco giochi Dove dire che c'è un Wii Ma devi stare di nuovo, Wii No, no, non c'è Ma avete rotto tutto Sono troppo giusto Sono troppo giusto Uuuuh C'era troppo cincione C'era troppo cincione C'era troppo cincione C'era troppo cincione Ragazzi, lasciate stare, aspettate, fate fuori l'orda prima Eh, c'è solo ogni moto Ah Eh, io ho l'indicato, Delta Ciao, Del Ciao, Del Goodbye, my darling, e le Udenta Ma c'è la sei Pausque Ma dai Non ci credo Allora non è neanche l'ultimo, va, vai, 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 vai No, 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 c'è Cioè, io sono morto di davanti Io sono morto di davanti Maddonna, di davanti sono morto Ma non ci credo Ma quanti, ma quanti la roba sei la l'ultima immagino si tratta e infatti queste da cinque livelli mamma mia non c'è il livello 5 ha ragione questa è la quinta cosa non è vero non più mamma mia